Una depressione atlantica convoglia forti correnti sud-occidentali, umide e instabili verso l'Italia. Tra venerdì e sabato un fronte interesserà la Croazia e marginalmente anche la nostra regione. Per questa sera dunque prevediamo sulla bassa pianura e sulla costa orientali piogge anche diffuse e temporali, forse anche localmente qualche temporale forte. Domani in giornata avremo nuvolosità variabile con più sole lungo la costa dove soffrerà l'Ibeccio e maggiori nuvolamenti invece sulle zone interne in montagna dove nel pomeriggio sarà comunque possibile qualche locale rovescio temporale. Temperature massime superiore in costa tra i 26 e i 27 gradi. Domenica mattina ci aspettiamo inizialmente cielo sereno o poco nuvoloso su tutta la regione. Poi in giornata avremo nuvolosità variabile per la formazione di qualche nube e forse in montagna non esclusa qualche locale breve, debole pioggia locale. Temperature massime attorno ai 27-28 gradi. Lunedì ancora variabilità e ancora la possibilità di qualche locale rovescio in montagna. Poi per il resto della settimana probabilmente avremo l'anticiclone con aumento delle temperature. Dall'osservatorio meteorologico dell'ARPA, Livo Stefanutto.